Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Ruggero Marchetti. Cari sorelle, cari fratelli, cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nostro secondo appuntamento, a questo secondo culto del mese di maggio che vogliamo vivere insieme. Ci mettiamo alla presenza del Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. È scritto nel Salmo 66 con voci di giubilo, annunziatelo, banditelo, datene voce fino all'estremità della terra, dite il Signore ha redento il suo popolo. Fate acclamazioni a Dio voi tutti abitanti della terra, cantate la gloria del suo nome, rendete gloriosa la sua lode. Preghiamo. O Signore Dio, spargi su di noi il tuo Spirito Santo affinché i nostri pensieri e la nostra lode siano ispirati da te. E da te sia anche governata tutta la nostra vita, alla sola tua gloria, in Gesù Cristo benedetto nei secoli. Amen. Siamo figli di un solo riscatto d'amore, un benesimo fatto di fede, di spene, di vincola insieme col nostro pocente, signore. Fratello soleva il fratello, opresi da grave faltello, resulta se niente di cantarelo, Il Vangelo è al profito nostro Signore. Vogliamo allora seguire, per chi ha ascoltato il culto della domenica passata, l'invito dell'angelo del sepolcro, dell'angelo della Pasqua, a ritornare in Galilea, rileggendo il Vangelo di Marco dall'inizio, per incontrarvi là, il Signore. Vivo e attivo. E ascoltiamo oggi, nel capitolo 1 di Marco, i versetti che lo chiudono. È il racconto del più grande dei miracoli che Gesù ha compiuto in questo inizio del suo Vangelo. Un miracolo grande perché grande e terribile era il male che Gesù ha vinto. Un male così grande, così terribile, che per quella malattia non si parla di guarigione, ma di purificazione. Si parla di essere mondati, perché quella malattia è una vera e propria maledizione per gli ebrei e per tutto il mondo antico. Una maledizione richiedeva l'intervento diretto di Dio per purificarci da quel male. Ascoltiamo allora, nel Vangelo di Marco, i versetti da 40 a 45 del capitolo 1. Venne a lui un lebroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo, se tu vuoi puoi purificarmi. Gesù, impietosito, si stese la mano, lo toccò e gli disse, lo voglio, sii purificato. E subito la lebra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, e gli disse, guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città. Ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Un lebroso è il protagonista, assieme a Gesù, del racconto di oggi. Noi oggi possiamo avere un'idea solo molto pallida di che volesse dire ammalarsi di lebra in Israele ai tempi di Gesù. Era la cosa più terribile che potesse capitare a un essere umano. Il morbo iniziava con ulcere che causavano un prurito tormentoso, la pelle si inspessiva e si gonfiava, si formavano nodi e tubercoli, che ora davano luogo a suppurazione, ora si indurivano e nascondevano germi. E poi la pelle stessa si anneriva e cadeva a pezzi, e tutto il corpo si deformava e si corrompeva tra accessi di febbre e fortissimi dolori. Le estremità degli arti andavano in gangrena e cadevano, mutilando l'ammalato. Anche gli occhi, privati della protezione delle palpebre, che non si chiudevano più, si clerotizzavano e presto sopravveniva la cecità. Il tutto accompagnato da uno stato di agitazione, insonnia, incubi. Insomma una condizione spaventosa. E tutto questo non senza conseguenze sociali, anche se spaventose. Se ogni malattia era considerata in Israele un attacco diretto alla vita, nel senso che era vista come l'allungarsi degli artigli della morte su un essere vivente per portarselo via, questo valeva all'ennesima potenza per quella malattia delle malattie che era la lebra. Un lebroso era un non più vivo ma non ancora morto, uno strano e spaventoso essere a metà strada tra il mondo dei viventi e quello dei defunti. In questa condizione per lui era impossibile continuare ad abitare nel mondo dei sani, dei vivi al cento per cento, e doveva già andare a abitare nei sepolcreti, sempre situati fuori dai centri abitati. I lebrosi insomma erano uomini e donne esclusi dalla vita, quasi degli spettri, oggi potremmo dire degli zombie, la cui sola apparizione e lontananza suscitava paura e schifo, visto anche il loro aspetto deformato e il fetore che emanavano. Degli spettri insieme spazzatura. Non a caso, accanto ai sepolcreti, i soli altri luoghi in cui era consentito ai lebrosi di trascinare la loro esistenza erano i letamai, anch'essi rigorosamente fuori dalle mura. Spettri, spazzatura, esseri senza pace, perché, come abbiamo già detto, se non è più un vivente, un lebroso non è ancora un morto e non può allora godere nemmeno del riposo della morte. Secondo le disposizioni della scrittura, il Levitico 13 e 14 deve, nei luoghi miserabili in cui è obbligato a condurre la sua miserabile esistenza, a girarsi qua e là e stare sempre in guardia, pronta a gridare a chi dovesse avvicinarsi a lui, impuro, impuro, per dargli modo di fuggire via. E non è ancora finita, perché accanto alle conseguenze sociali della lebra c'erano poi quelle di tipo religioso. Di fronte a una malattia così tremenda, a cui i corpi ancora vivi e già in putrefazione, si era fatta strada la convinzione che la lebra fosse un castigo di Dio per peccati certamente molto grandi. Sofferenze così atroci, ci diceva, Dio può infiggerle solo a grandi peccatori. Così alla paura del contagio e all'orrore che quei non morti e non vivi suscitavano, si aggiungeva la condanna religiosa e morale. Quelle ulcere, quelle mutilazioni, quei moncherini erano il marchio del peccato e della conseguente punizione divina. A questo punto ci rendiamo conto che la solitudine e la disperazione di quei poveri malati non potevano essere più grandi, più totali. Ed ecco un lebroso sente parlare di Gesù, di quel maestro che insegna con una nuova e inaudita autorità e soprattutto è buono e è sempre pronta a intervenire per liberare dal male coloro che soffrono. E allora esce dal suo confino di morte e spazzatura e non si ferma come deve fermarsi, a distanza da Gesù. No, si accosta a lui. Osa far questo. Questa sua trasgressione è l'espressione di una grande speranza, ma anche e forse soprattutto di una infinita disperazione. Il lebroso si aggrappa con tutte le sue forze, appunto con la forza della sua disperazione, a quel maestro che gli hanno detto è potente ed è buono. E dopo aver fatto il gesto insensato di infrangere le regole che sarebbe obbligato ad osservare, gli dice anche qualcosa di insensato. Se vuoi mi puoi purificare, mi puoi guarire dalla lebra. Insensato, perché dire questo ad un essere umano, forse anche a un maestro straordinario come Gesù di Nazareth, è proprio qualcosa di impossibile. Tutti i maestri e gli iscrivi di Israele erano concordi nel sostenere che solo Dio in persona e nessun uomo, nessun profeta, nessun taumaturgo poteva risanare dalla lebra. Come già abbiamo detto, era la malattia delle malattie, qualitativamente diversa da tutte le altre. Per questo Dio, che pure ha concesso ai suoi servi Mosè, Elia, Eliseo, poteri straordinari, ha riservato a sé, questa era la convinzione in Israele, due tipi di prodigi, risuscitare i morti e appunto risanare i lebrosi. Così se in tutto l'Antico Testamento troviamo solo due guarigioni dalla lebra, tutte e due le volte la Bibbia mette sempre molto in chiaro che quella guarigione non è opera umana, ma esclusivamente opera di Dio. Nel nostro testo d'oggi l'ebroso chiede allora a Gesù di fare quello che solo Dio può fare. È davvero qualcosa che si spiega solo con una sofferenza, che ti spinge a parlare senza renderti conto di quel che stai dicendo. Spesso però, è proprio quando siamo più insensati, andiamo oltre le regole e il buonsenso. È proprio allora che ci accostiamo a Dio. Ed ecco che Gesù non rimprovera il lebroso per la sua incredibile richiesta, ma anzi il suo cuore si riempie di pietà, freme di compassione per quell'uomo che chiede l'impossibile. Così stese la mano e lo toccò. Tocca Gesù, colui che per definizione è un intoccabile, gli dice «Sì, lo voglio, sii purificato» e l'impossibile si fa realtà. Subito la lebra si allontanò da lui e fu purificato. Ed esplode la gioia. Nonostante Gesù lo abbia munito severamente di non dire a nessuno ciò che gli era accaduto e l'abbia invece invitato ad andare a presentarsi al sacerdote per procedere alla constatazione ufficiale della sua guarigione e per presentare il sacrificio di purificazione prescritto dalla legge per essere reinserito nel novero dei sani e dei vivi come si fa a frenare l'entusiasmo di chi si sente nato per la seconda volta? Così colui che ormai è meravigliosamente un ex lebroso allontanatosi di lì cominciò a proclamare insistentemente e a divulgare l'accaduto. Il Signore ha già chiamato i Suoi primi discepoli a seguirlo ma non li ha ancora inviati a parlare di Lui agli uomini e alle donne di Israele non li ha ancora costituiti apostoli questo ex lebroso ci pensiamo poco ma è così diventa in qualche modo quasi contro la stessa volontà di Gesù il suo primo apostolo il suo primo evangelizzatore è passato dalla disperazione alla gioia e non può ora non vivere come riconoscenza la nuova vita che ha davanti a sé ha trovato in Gesù il suo salvatore rende a tutti la sua testimonianza su di Lui un'ultima parola su Gesù stesso abbiamo visto come Egli abbia toccato un lebroso che nessuno poteva toccare cioè infranto le regole del tempo Gesù e forse mentre faceva questo pensava a quello che lo aspettava sarebbe stato catturato torturato condannato mandato su una croce sarebbe diventato come erano tutti quelli che erano appesi al legno secondo la scrittura un maledetto una maledizione così Gesù ci ha amato in qualche modo quello con il lebroso è stato uno scambio la benedizione di Dio su di Lui la maledizione che poi è la benedizione di tutti noi su Gesù Amen Andiamo Digno di giubbido come gli angeli a vedere per esaltare il suo cuore che ci guida verso il cielo si è stenduti qua giù la paura c'è stato una luce non è questa pace al mar ma tu sei la via la verità la vita in santità Signor Gesù tornando a farò come un giorno di luminità per l'acidum il cuore che la sola è dignità si è stenduti qua giù la paura c'è stato una luce non è questa pace al mar ma tu sei la via la verità la vita in santità la nostra vita ti merita come in magia al vento e al l'or che l'arco ai piedi e al l'or che l'arco non è questa pace se stenduti qua giù la paura c'è stato una luce non è questa pace al mar ma tu sei la via la verità la vita in santità ci raccogliamo in preghiera o Signore Dio nostro noi ci sentiamo tanto lontani da quei lebrosi dell'antichità eppure quante volte anche noi imponiamo agli altri o viviamo su noi stessi delle condizioni di emarginazione condanniamo gli altri a volte condanniamo noi stessi per delle scelte insensate alla solitudine alla lontananza dagli altri e all'angoscia che tutto questo porta viviamo in una società che vede la frantumazione di tanti rapporti umani di tante relazioni fa che Gesù venga anche da noi fa che noi come quell'ebroso ritroviamo il coraggio la speranza e chissà anche la disperazione per andare noi a Gesù per chiedergli di toccarci per chiedergli di purificarci per chiedergli di restituirci a una vita di relazione di comunione di solidarietà con Dio e con gli altri ad una vita degna di essere vissuta ci riscopriremo allora uomini e donne degni di questo nome e veri fratelli e sorelle di Gesù ed è così come fratelli e sorelle di tuo figlio e quindi i tuoi figli e i tuoi figli che ti diciamo in preghiera Padre nostro che sei nei cieli si è santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno tu è il regno la potenza e la gloria nei secoli amén riceviamo la benedizione del Signore il Signore vi benedica e vi custodisca il Signore faccia risprendere il suo volto su di voi e vi faccia grazia il Signore sollevi su di voi il suo volto e vi dia la pace amén avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal pastore Ruggero Marchetti e vi faccio